Una iniziativa culturale di grande rilievo? Sì, questa di lunedì è sicuramente una iniziativa molto importante perché esprime le capacità del nostro conservatorio che in questi anni ha avuto un'espansione didattica, culturale e artistica molto importante. Che cosa c'è oltre al concerto? Il concerto è un momento molto importante sicuramente per il conservatorio e per la città, per i nostri studenti, per i nostri insegnanti ma avremo la possibilità di avere un solista di eccellenza che è il maestro Darko Berlec, che è un clarinettista di fama internazionale ma è anche il direttore artistico di uno dei festival più importanti d'Europa e oggi lui è qui non solo in veste di solista per allietare il nostro pubblico, la nostra orchestra, il nostro conservatorio ma anche per rendersi conto delle capacità della nostra orchestra e vedere se c'è la possibilità di una collaborazione. Grazie. 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 Grazie.